Ci colleghiamo con il DJ numero uno del mondo, lui è Gabri Pontifex. Come va ragazzi? Tutto a posto? Sì, sì, sì. Eh lo so, sono mancato un po', sono stato via. Eh lo so ragazzi, cosa devo fare? Mi hanno mandato a fanculo, ci sono andato, non riuscivo più a tornare indietro. Meno male che sono venuti i miei soci, gli iFel65 a prendermi e mi hanno portato a casa. Che due coglioni ne ritorno. 45 minuti ad ascoltare panico, che panico, è panico. Wow, sono in panico, sono tutto sudato, che panico. Il nuovo disco, non l'avete sentito? No, no. Avete sentito? Ecco, sto panico hai rotto i coglioni, ne ho basta Jeff. Hai dei problemi? Vatti a far curare. Benissimo, ne ho? Dai allora, iniziamo subito la classifica di questa settimana. Arriva alla terza posizione, come sempre stabile, non se ne vuole andare fuori dai coglioni. DJ Tozzo con Bocca Anu. Andiamo! Che la vola piano Anche a questa bocca Che la vola piano Ah 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 Bocca Anu Che la vola piano Troia Anche a questa bocca Anu Che la vola piano Troia Minchia si spracella i coglioni di bestia questa canzone! Ma attenzione, state attenti adesso perché arriva la seconda posizione di questa settimana Questa è... Per noi donne non è sempre facile sentirci il nostro agio nel nostro corpo Soprattutto quando dobbiamo affrontare... Il cazzo È fondamentale scegliere sempre il reggiseno giusto Che valorizzi al meglio le nostre forme ma sempre con eleganza Soprattutto in un'occasione speciale come può essere il primo appuntamento Vediamo ad esempio come Laura ha trovato la soluzione giusta grazie al... Cazzo Il cazzo Il cazzo Il cazzo Grazie al cazzo Il cazzo Il cazzo Il cazzo Grazie al cazzo Mamma mia come bella, ne? Span che potente, ne? Loro sono il reggiseno, era grazie al cazzo Ma non voglio rubarvi altro tempo, vi faccio sentire subito la numero una di questa settimana Lui è estetist con peli Mi sono strappato i peli nel culo Ma no! Perché Non avevo niente da fare Ed ora Che non ho più peli nel culo Non so Ma no, 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 no... Non fuma la Maria Perché la polizia Se no lo porta via Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti